Ho un kit medico per sé! Stacca giù! Lascia una granata! Attenzione! L'obiettivo Charlie è in mano nostra! Cazzo! Faci arrivare mica! Faci i tazzo! Faci morti! Faci morti! Faci arrivare mica! Non sta vicino a me pollo! Faci arrivare! Faci arrivare! Sperdi quel cellulite! Accoglilo! Sperdi quel cellulite! Quasi morto! Quasi morto! Sul ponte! Attenzione! Non so sicuro ma forse c'è uno sul ponte! No! Occhio! Charlie! 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 Driver! Spera io! Spera io! Spera io se c'è la mano! Oh Fox! Aiutalo tu su Charlie a Driver! No! Venite mi a dare una mano! Erano due su Charlie! Abbiamo a bene colpittato l'obiettivo Alman! No! C'è l'ho sopra di me! Regà! Sopra di me! Sono morti il passerello! 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 Attra! Guardiate! Passerello! G 43! Spersi piaciuti! Nel WOF! Lo denomato! come nessuno nessuno c'è il kit medico per te, raccoglio! ne ho fatto quello su alfa, vieni! viene il pronto soccorso! l'obiettivo alfa è stato neutralizzato fatto, vai polvo, vai! l'obiettivo alfa è stato conquistato! la dobbiamo andare a freddo! l'obiettivo ai tuoi piedi! fatto, fatto, fatto! occhio, giù la testa! fatto, passerella, dai! vado io, acqua! 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 sottoponte, sottoponte! arrivo in passerella, arrivo in passerella abbiamo controllo del ultimo attivato amici, c'è un piano! contatto, attravi! avuto io, acqua! che fai va! avuto io, acqua! l' genres più riguardo! 5-7! e presto! ho usato, faccio il Kez! è ovvio che mi sono riuscita a scuola due suffici uno è andato c'è una mano a sinistra qua mi hanno fatto mi hanno fatto mi hanno preso e mi fa l'altro e mi fa l'altro è uno in personaggio oh mi avete rotto il cazzo l'ho fatto solo questo round oh questi stai stai passarello perché stai passarello sono senza munizioni che sto passarello non 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 li faccio a pezzi abbiamo preso l'obiettivo Charlie non 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 ci ti non ti non non quindi mi pure che non ho fatto uno in scala cava donna mia perché devo con random ok no invece hanno fatto una su alfa una mano per tuo dio sarai mai sono morto concentriamoci L'obiettivo c'è, abiettivo, sono bene neutralizzati. Dietro, 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 dietro da me, chi era il Charlie, porco Dio. Dovete spaventare da me sul passarello che non posso staccare. Alza, 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 no, stai un attimo, stai un attimo là. Alza dietro. Ho un kit medico per te. Fatto, uno, fatto, uno. Sto andando io con lo. Ecco il kit medico, ok? Ascoltate, l'obiettivo alberto. Passo, lo voglio farciare. Ragazzi, solo uno su alfa, anzi, gli ha spaventato un altro mo'. No, spaventato, spaventato. Presa. No, tornati niente, tornati niente, tornati niente, tornati niente, tornati niente su, bravo, tornati niente su, bravo. Bravo, 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 bravo. Aspetta, pollo arrivo, eh. Uno fa il giro da dietro. Uno fa il giro da dietro, pollo. Mo' ritorna su alfa. Sto qui a la testa mia. Sì, c'è una falte, ce n'è. Bella, pollo. Ecco il kit medico, raccoglilo. Abbiamo appena neutralizzato l'obiettivo alberto. Vai, vai, pollo, capo io. Pollo. Ora, controlliamo l'obiettivo alberto. Oh no, mazza, ti ho il canale. Ma qui? La riuscita, va. Uno fa il giro da dietro, uso alfa. Ecco il kit medico per te. Dai, l'ultimo, l'ultimo. C'è solo uno subì, c'è solo uno. No, c'è solo uno. Era. Vi detro Cats. 1 l'ho fatto. 1-4 anzi. No, 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 no. No, 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 no.